Dovranno essere eseguiti ulteriori interventi per risistemare il verde della cittadina sancataldese e mentre si ricercano ulteriori somme da investire, sono già stati effettuati dei primi lavori di potatura per eliminare nell'immediato le criticità registrate e mettere in sicurezza gli alberi più pericolanti. L'attenzione adesso si rivolge verso le ville comunali, luoghi in cui i cittadini si ritrovano per passeggiare all'aria aperta insieme anche ai più piccoli. Abbiamo trovato una situazione disastrosa perché il verde era abbandonato a se stesso da tantissimi anni. Era quasi un decennio che non mettevano mano al verde della città e principalmente agli alberi della città. Noi in questo momento abbiamo fatto la potatura straordinaria di tutti gli alberi che erano pericolosi, avevano dei problemi di staticità e addirittura c'erano degli alberi che andravano dentro le case della gente quindi abbiamo cercato di ridurre i danni. Non abbiamo potuto fare la potatura per intero perché chiaramente le somme esigue del comune ci hanno indotto a prediligere gli alberi che avevano più necessità di potatura. Però con altre somme che stiamo un po' recuperando cercheremo di potarli e di sistemare il verde pubblico in tutta la città, in special modo gli alberi. Per le ville il discorso è diverso anche perché stiamo cercando di fare assieme a delle scuole e anche degli enti privati, stiamo cercando di fare della progettazione con la potatura del verde. Ci sono dei ragazzi in questo momento che si sono adoperati a fare dei progettini all'interno della villa comunale quindi con degli steggi all'interno della villa comunale i quali devo dire che con grande nostra soddisfazione stiamo avendo i risultati sperati.